Non è che eris, sospes e multos numerabilis amicos, temporasi fu erenti nubila solus eris. Non è che ero, non è che ero, non è che ero, non è che ero. Sì, non posso pagarli. Anche a me fa molto, molto più. Anche se ho una posizione, io non ce li ho tutti quei soldi. Lo stesso, lo stesso che prendete. Pier Giorgio, un uomo preoccupato per l'azienda di famiglia. Fatti bravo, io l'adoro. Duecento non li vale. Al massimo ne vale ventimila. Volte la facoltà, prima di decidere di fare una scuola, lo sa cosa significa questo? Significa che non lavorerà mai. Ho tutti quei soldi per una inutile formazione. Adesso dovrò tirar fuori di che tasca mia altri duecentocinquanta testoni per potergli comprare una casa e mandarlo a fanculo. Mio figlio è un cazzone, è un impareggiabile buontempone, è un testa di cazzo, che tutto il giorno fuma erba e gioca ai videogiochi. Vi ha detto male? Mi dispiace. Ho detto che voglio ventimila euro per levarvelo dalle palle. Ma sei pazzito? No, non sono mai stato così lucido. Senti, adesso noi prendiamo tuo figlio, prendiamo quel tuo cazzo di figlio e lo ammazziamo come un cane. Hai capito? Ventimila euro. Non trattabili. Vede Marchese, noi avremmo veramente bisogno di quel contributo di cui... Ma lei mi insegna che adulator propis comodis tantum suadet. L'adulatore tiene di mira solo i suoi interessi. Vede C��otoc. Vede Marchese. Vede Marchese. Sittà di Davide. Vede Marchese. iltri...